nuove puntate del paradiso delle signore stanno per arrivare in questa nuova stagione della fiction ci sono stati alcuni nuovi ingressi altri ancora dovranno arrivare tra i personaggi di cui i telespettatori hanno già fatto la conoscenza possiamo trovare clara quest'ultima è la nipote di don saverio che fin dal suo arrivo ha gettato scompiglio in atelier in particolare la ragazza non riesce a trovare un punto d'incontro con irene clara non è infatti riuscita ad attirare la simpatia dei cipriani boscolo inoltre non riesce ad andare d'accordo neanche con elide la perpetua del convento le anticipazioni delle prossime puntate ci rivelano però che irene potrebbe dover raccogliere in casa sua la nipote di don saverio durante le prossime puntate che andranno in onda boscolo sarà costretta a dover lasciare la canonica la ragazza infatti non riuscirà ad andare d'accordo con la perpetua elide lo zio aveva chiesto alla nipote di cercare di venire incontro alla donna così da smorzare la situazione tesa che si era venuta a creare le donne sono molto differenti e per questo sarà difficoltoso riuscire a trovare un punto d'incontro clara è una ragazza molto vivace che viene dalla campagna ed è abituata alla libertà riuscire a rispettare le regole della canonica sarà per boscolo molto difficile in tutto questo don saverio cercherà di gestire la situazione cercando di portare la nipote sulla retta via purtroppo però la situazione non accenderà a placarsi e don saverio sarà costretto a mettere la nipote davanti ad una scelta clara rischierà così di far ritorno in paese dove sarà destinata ad accettare un matrimonio combinato per clara una delle soluzioni potrebbe essere quella di andare a vivere in casa delle ragazze purtroppo però il rapporto con irene non è dei migliori anzi cipriani aveva addirittura fatto licenziare boscolo da vittorio solo l'intervento di don saverio ha salvato la nipote il parroco è infatti riuscito a far riassumere la nipote da conti nonostante per clara rimanere in casa delle ragazze sia l'unica soluzione per evitare di andare via e lasciare la vita che ha iniziato a costruirsi cipriani non sarà per nulla d'accordo nell'ospitarla in casa sua non sarà però ancora detta l'ultima parola dato che così come è successo con maria Irene potrebbe rivalutare clara boscolo e diventare successivamente sua amica ciao 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 ciao